Sono andata a pregare la nostra Beata, perché noi siamo molto affezionati alla nostra Beata, da tanti anni. Lei ha un motivo particolare? Ci sono cresciuta con questa devozione, diciamo così, perché non è mai sola la Beata, c'è sempre qualcuno. Anche quando c'era la chiesa aperta, c'era sempre un via vai, una cosa che il paese si tramanda, ecco, perché per noi è la nostra santa, diciamo così. Un pellegrinaggio ininterrotto di fedeli nella cappellina del monastero delle Clarisse di Matelica ha reso omaggio alla Beata Mattia nel giorno in cui cade la sua nascita. La devozione verso la Beata, in attesa di canonizzazione, è forte ogni giorno dell'anno, ma in occasione delle celebrazioni del primo marzo, qui arrivano fedeli anche dai centri vicini. Sì, sì, vengo a posto. C'è un motivo per cui è particolarmente devoto alla Beata Mattia? Ma no, no in particolare, perché sono un po' un francescano, no? Però quindi essendo una Clarissa di San Francesco, sono venuto oggi alla festa sua, no? Di nascita. Alla Beata Mattia da sempre la gente si rivolge per chiedere protezione e conforto nei momenti più duri della vita, quelli personali e quelli della città. Rappresenta un riferimento di fede e anche quando mi sento un po', diciamo, abbandonato, mi rifugo nella sua preghiera e in lei. Cosa li lega questa santa e in particolare lei ha dei motivi particolari per essere... Sì, io avevo due zie qui, adesso sono morte, però per me sembra la famiglia nostra. E ci vengo spesso e poi manca che la chiesa deve essere aperta. Beh, ci credo e quando c'è la ricorrenza ci vado. Porta anche sua nipote? E se c'è sì, che non va a scuola, sì, ce la porto. A celebrare una delle messe in programma è in questo giorno padre Ferdinando Campana, ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Siamo certamente con una di quelle figure che hanno segnato la città, appunto come Camilla Battista per Camerino, come la Beata Michelina per Pesaro, perché la loro vita è stata una vita sia di preghiera che di carità. Un punto di riferimento durante la vita e poi anche una devozione, un affidamento, una protezione lungo i secoli. Cioè la città di Mattelica si identifica con la Beata perché la chiesa, il monastero, le monache lungo i secoli hanno accompagnato con la loro vita, la loro testimonianza e la gente con la loro devozione, il loro affetto, la storia della città. Le celebrazioni per la ricorrenza della nascita della Beata Mattia hanno riportato l'attenzione anche sul monastero, dove si osserva la regola di Santa Chiara che in esso condusse la stessa Beata. Un monastero prezioso dal punto di vista storico, architettonico, religioso e per le opere che contiene, ma che, danneggiato dal terremoto, è in attesa di ristrutturazione. Per questo è partita una raccolta fondi tra i fedeli.